Storicamente non ci sono molti precedenti tra Avellino e Monopoli al partito di Lombardi, tra le sfide in Irpinia tra Lupi e Gabbiani, la prima partita nel torneo 2020-2021 con i bianco-verdi di Braia che si sono imposti per 4-0 con reti di Bernardotto, D'Angelo, ritornato successivamente in Irpinia da Sena e Fella. Nelle altre due gare ci sono stati due pareggi, due a due, doppiette di maniero nel torneo 2021-2022 e 0-0 lo scorso anno. Tre, gli ex della sfida. Tra il fila dell'Avellino il difensore Erasmus Mule che nella passata stagione ha siglato 5 gol in 17 gare con i Gabbiani, risultando nello scorso torneo uno dei principali protagonisti dei pugliesi nel giro di ritorno. Con il Monopoli ci sono Carlo Derisio, ex centrocampista di Lupe, infortunato che salterà la sfida di domani, ed Emanuele Sant'Agnelo. Il Cigno vanta con la maglia dell'Avellino, 34 presenze e 3 gol all'attivo nel campionato 2020-2021. La partita contro i pugliesi è stata affidata a Dermes Fabrizio Cavaliere, fischietta della sezione di Paola. Sono quattro i precedenti dei bianco-verdi con lui. Avellino Latte Dolce 1-1 nel 2018 in Serie D, Avellino Torres 3-1 sempre in Serie D, Avellino Virtus Francavilla 1-0 nel 2021 e Latina Avellino dello scorso anno 1-0 per i Pontini.